Due incidenti sul lavoro si sono verificati nel giro di poco più di 12 ore in Friuli Venezia Giulia. Avisco un serbatoio di acqua e refluo e oggetto di manutenzione in un impianto di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi è esploso e ha preso fuoco alle 13 di oggi. Due lavoratori feriti portati all'ospedale di Palmanova con traumi ostioni di secondo grado con estensioni giudicate tuttavia non preoccupanti. Inizialmente si temeva che fosse esploso un serbatoio contenente idrocarburi e che fossero stati coinvolti cinque lavoratori. I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con la squadra e l'autobot del distaccamento di Cervignano con il funzionario di guardia, l'autoscala, l'autobot chilolitrica e il carro schiuma della sede centrale di Udine con il supporto di un'ulteriore squadra e un'autobot giunte dal comando di Gorizia. I pompieri hanno provveduto alla completa messa in sicurezza del serbatoio, riempiendolo di schiuma antincendio e verificando con la termocamera che le temperature fossero rientrate nei valori normali. Sul posto anche carabinieri, polizia locale, servizio prevenzione e sicurezza dell'azienda sanitaria e ARPA. A Gorizia invece un operaio di 36 anni è stato colpito al torace da un macchinario poco prima delle 23.30 di ieri in una fabbrica di via Fermi nella zona dell'autoporto. Immediata la chiamata di aiuto da parte dei colleghi al NUE 112, il ferito, sempre cosciente, è stato assistito sul posto, poi trasportato con l'ambulanza, all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia in codice giallo.